comunicazioni importanti il mio sincero grazie per essere su questo canale il titolo comunicazioni importanti è l'ennesima esortazione se credete di fare le ricerche col telefonino di abbandonarlo è fatto e studiato solo per ricevere info dal sistema tornate ad usare i computer col telefonino non potete sfruttare le combinazioni coi tasti ctrl più f per cercare le parole che si trovano sulle oltre 3.100 voci dei video a disposizione esistono già due video in merito indice alfabetico trovare ctrl più f parole presentazioni di storia rubata e ratatouille info varie come ad esempio cercare parole sulle pagine web ctrl più f o alt più f comunico che ho appena pubblicato sul secondo canale due pass la nuova serie della fisica della criptonite dal titolo pianeti e stelle l'assurdità della distanza anni luce prima di fare domande tipo non mi spiego il volo sidney santiago del cile perché qualche gatekeeper pubblica questi tranelli siete andati a cercare le voci sotto sidney no e non avete nemmeno provato a scorrere la fornita playlist aerei non ho intenzione di perdere tempo per chi vuole la pappa pronta visto che avete a disposizione un sacco di materiale senza dover sottoscrivere alcun abbonamento anzi se volete ringraziare potete farlo regalando anche il semplice valore di un caffè con paypal e non scrivete che non volete usare le piattaforme di regime per acquistare il risveglio o il nuovissimo il secolare nuovo ordine del male perché se cercate sono anni che avete a disposizione la possibilità di scaricare gratuitamente la coppia omaggio ma dovete cercarla sul sito web chi invece posta commenti come devi fare video più lunghi gustatevi playlist come storia perduta della terra piana antartide max segan roberto morini geo ingegneria e altre che preferisco meglio non posso nominare oppure visitate le pagine max zeng sempre attraverso il sito web www.tinelli.eu sto vivendo a contatto con la natura che regala i suoi prodotti e non chiede niente se non un po di attenzione e non desidero assolutamente rubare questo mio tempo prezioso fate le vostre ricerche da soli da sole un abbraccio